Allora, quello che dite voi, Ferrara, che questo termovalorizzatore, che in realtà c'è anche a Copenhagen, e a Copenhagen vi ricordo che c'è un termovalorizzatore al centro della città, dove sopra c'è un campo d'ascita. Allora, voi dite che è qualcosa che parte già vecchio. Parte vecchio? La domanda che io faccio, poi ai miei interlocutori, ma la pongo anche ai cittadini, è perché l'Europa mette al penultimo posto l'incenerimento dei rifiuti? Perché l'Europa dice che nel 2025 la combustione e la gestione termica dei rifiuti verrà comunque vietata? Perché gli impianti in Europa stanno chiudendo? La risposta io ce l'ho a questo, è chiaro. Sono obsoleti perché stiamo andando verso la riduzione dei rifiuti, l'impianto termovalorizzatore, ma inceneritore, diciamo, usiamo la parola giusta, sarà realizzato tra una decina d'anni, forse un po' meno, manda regime tra 20, dopodiché raccolta differenziata è un conto, inceneritore non alto, se si vuole disincentivare, perché questi impianti avranno sicuramente fame, perché dovranno bruciare i rifiuti, e non parlo dell'inquinamento perché c'è anche quello, non esistono termovalorizzatori che non inquinano, ci sono termovalorizzatori che inquinano più o meno.